Io ho sempre lavorato, però non ho mai guadagnato nulla. Devo ringraziare mia mamma e mio padre che mi hanno sempre... Sostenuto, come sempre. Quella del workshop per me personalmente è stata una grandissima esperienza, nonché una soddisfazione enorme dopo tanti anni di sacrifici e anche di momenti difficili. È stata la grande occasione che mi ha permesso di conoscere un mondo, quello calcistico, a 360 gradi. Anche lì lasciavo, come dici tu, l'orologio a casa, però non mi è mai pesato perché a me mi è sempre piaciuto. Mi sono ritrovato nel centro dei momenti più importanti del nostro calcio, a stretto contatto con le realtà più importanti. Ho avuto la possibilità di continuare un percorso iniziato a settembre e che mi dà appunto l'opportunità di poter continuare a svolgere il lavoro che ho sempre sognato, e cioè quello di giornalista sportivo. Come to solitensi! Grazie.